ma che belle tutte le tue carte gradate ok ma dove le metti ti offro tre soluzioni soluzione numero uno la più economica è un deck box per carte gradate che può contenere fino a 10 bucket e fino a 16 psa barra grad si chiama graded card box ed è di ultra pro soluzione numero due la più capiente la scatola cars collection per carte gradate con 20 spazi ogni singolo spazio può contenere carte gradate psa e grad fino a 10 pezzi carte gradate di beckett fino a 6 pezzi ed anche gli un quarto scritta un recessed fino a otto pezzi soluzione numero 3 la più elegante top binder per 5 fogli versione mega per otto fogli ed eccoli qua i fogli dedicati per le carte gradate psa e grad 6 carte per ogni pagina in arrivo anche i fogli per beckett e i gradi e se vuoi proteggere ulteriormente le tue carte gradate eccole quale sleeves di ultra pro generiche specifiche per psa tutti gli accessori che hai visto in questo video li trovi sul nostro sito lpp collecting.it sezione accessori chiave di ricerca gradate oppure gradi da boss è tutto ci vediamo alla prossima goodbye